ormai è una consuetudine quando si parla alla juventus interviene sempre la consob per verificare che sia tutto a posto guarda caso quando c'è di mezzo la juve c'è voglia di giustizia c'è voglia di comprendere pieno tutto quello che succede e attenzione perché negli ultimi giorni è tornata di moda la voglia di andare a curiosare sul bilancio della juventus e capire se è tutto ok da questo punto di vista la juventus ci ha tenuto a precisare fin da subito quelle che sono le operazioni di mercato della juventus soprattutto le ultime operazioni di mercato quelle tra juventus e genoa che hanno portato operazioni come quella di cambiaso quella di dragosin insomma questa volta la juventus risponde questa volta la juventus dice la propria andiamo a analizzare tutto qui su fcm newsport come sempre vi ricordo e qui sarete sempre costantemente aggiornati sulle vicende della vecchia signora in maniera del tutto gratuita sarete super aggiornati e quindi se vi va iscrivetevi è gratuito attivate la campanella lasciate un like a questo contenuto ma soprattutto diteci la vostra in merito a queste situazioni che vedono la juventus coinvolta in queste operazioni incrociate che la consob ha messo nel mirino e tra queste ci sarebbe anche quella della juventus in particolare sul bilancio 22 23 la juventus ha risposto e ha con un comunicato ufficiale risposto direttamente alla consob dicendo signori guardate che qui le cose stanno a posto e leggiamo gli effetti economici e patrimoniali forti nell'esercizio 22 23 derivano esclusivamente da un'operazione incrociata realizzata nel mese di luglio 22 ossia la cessione al genere diritti alla prestazione sportive del calciatore radu dragusin per un corrispettivo di 5,5 milioni di euro che ha generato una plusvalenza di 3,7 milioni cui è seguito nella medesima finestra di calcio mercato l'acquisto da parte della juventus del genoa dei diritti alla prestazione sportive del calciatore andrea cambiaso per un corrispettivo di 8,5 milioni come detto secondo consob juventus non avrebbe potuto rilevare la plusvalenza pari a 3,7 milioni realizzata con la cessione del calciatore dragusin e avrebbe pertanto dovuto registrare i diritti alle prestazioni sportive di andrea cambiaso a un valore di carico inferiore di 3,7 l'effetto netto nel conto economico 22 23 dell'eliminazione della plusvalenza di minore ammortamente dell'effettivo figurato fiscale derivanti a tale diverso trattamento contabile sarebbe solo negativo di 2,9 il club bianconero pur confermando la correttezza del proprio operato ha comunque precisato che in via meramente subordinata e prudenziale può valutare se l'operazione ha i requisiti previsti dall'articolo 38 che riguarda la configurabilità di dette operazioni quali permute di attività in luogo di transizione separate e autonome la juventus ha voluto quindi verificare se la sussistenza del requisito della sostanza commerciale calcolando il differenziale tra i flussi prospettici in uscita associati al singolo calciatore acquisito e i flussi prospettici in uscita associati al singolo calciatore ceduto considerando anche aspetti quali la probabilità del verificarsi dell'esborso per la parte variabile della retribuzione tali differenze tra flussi è stato poi rapportato ai prezzi di acquisto cessione ciascun calciatore e sono state sono state formulate le opportune considerazioni in termini di significatività inoltre ha voluto verificare la sussistenza del requisito e l'attenibilità confrontando i corrispettivi pattuiti con quelli relativi ad altre operazioni compravendita inoltre il club per antico nero afferma che la valutazione dei club dei calciatori interessati è suscettibile sempre sulla base approfondimenti di natura tecnico contabile svolti dalla società con l'ausilio degli esperti contabili esterni di una misurazione attendibile di fatto quindi la juventus questa volta ci ha precisato che che dunque si andrà a analizzare il tutto si tratta quindi di situazioni già conosciute e non di nuove valutazioni si tratta quindi di operazione che secondo la consob la non doveva mettere a segno quella plus valenza e non doveva registrare quella plus valenza e avrebbe dovuto registrare i diritti di cambiaso a un valore inferiore la juventus invece tena ci tiene a sottolineare che tutto in regola ma comunque si mette a disposizione per eventuali appunto ulteriori controlli beh a me sembra qua che si stia veramente andando oltre nel senso che ho come la percezione che la juventus ormai sia diventata quasi un un obiettivo un po troppo facile da individuare per esempio mi viene in mente come è finita la vicenda legata a osyman cioè siamo qui a parlare di un ipotetico scambio dragus in cambiaso che è un'operazione minima in cui mi sembra abbastanza tutto lecito e tutto conforme alla normalità e alla regolarità in quel caso lì quello di osyman in cui ci sono tre calciatori che sono spariti totalmente dal circuito internazionale e in quel caso siamo tutti belli e di aspettare perché tanto è una cosa che quasi non fa più notizia me sembra che qui si stia veramente andando un po troppo oltre e l'affare dragus in cambiaso mi sembra talmente tanto lineare che non non capisco il senso secondo consob la juventus non avrebbe potuto rilevare la presenza di 3,7 milioni per cambiaso per dragusin e avrebbe dovuto registrare i diritti alle prestazioni di cambiaso mi sembra una roba francamente folle la juventus come detto si sente abbastanza tranquilla sulla vicenda e non ha diciamo neanche anzi mi è piaciuto fin da subito la risposta il comunicato cioè che a questo punto di vista secondo me la società deve cambiare attitudine cioè deve cominciare a rispondere un po più nell'immediato anche perché se ti sei attorniato di tutte queste figure tecniche che l'anno scorso ti hanno aiutato a uscire dal calderone prosvalenza e quant'altro è chiaro che ora a questo punto noi ci aspettiamo che le esposte siano chiare nette limpide e che siano celeri perché negli ultimi anni quello che è stato sempre contestato la juventus da parte dei tifosi è la mancata difesa quasi molto spesso immediata cioè la juventus negli anni passati diceva vabbè non rispondiamo perché tanto sono calunni e poi in realtà quelle calunni sono trasformate in evidenti processi che hanno portato poi a disastri per la juve ecco da questo punto di vista secondo me la juventus doveva fare qualcosa in più cioè da quel punto di vista la juventus doveva rispondere subito e lo sta cominciando a fare ed è per questo che sono contento di questa nuova linea nel rispondere immediatamente a quelle che sono le accuse gli attacchi continui ormai le vediamo quasi giornalieri la consob non perde occasione per stare lì a subito intercettare quelli che sono gli equilibri e i bilanci della juventus evidentemente diciamo che è un obiettivo bello che è chiaro ed è anche facile in questo momento affondare in quello che è un argomento che ormai è troppo facile da prendere anche perché attira molta attenzione e lo sappiamo voglio sapere la vostra sotto voi è l'ennesimo attacco per colpire una società che ormai sembra quasi inerme di fronte a tutte queste vicende oppure la juventus sta cominciando a rispondere attorno a queste vicende insomma apriamo un bel dibattito qui sotto nei commenti a queste vicende insomma